Il 20 e il 21 settembre vorrei che i cittadini toscani potessero votare Italia Viva. Perché? Perché se vince Italia Viva vince Gianni, che è uno che vuole spendere i soldi europei. La Ceccardi, la candidata leghista, non vuole spendere 2 miliardi sulla sanità che derivano dal MES. Cioè la differenza non è ideologica, non è a chi sta più simpatico, questa non è una gara a chi ha più like su Facebook. Questa è una gara da cui dipendono 2 miliardi di euro della sanità. O vince Gianni e si spendono, o vince la Ceccardi e questi soldi rimangono all'Europa. Bel capolavoro. Per me il punto fondamentale è dunque uno e uno solo. Far vincere Italia Viva e alla Leopolda daremo questo messaggio. Chi crede negli ideali di questi 10 anni della Leopolda? In Toscana vota Italia Viva perché il PD a livello nazionale vuole l'accordo con i 5 Stelle e perché Salvini è l'esatto opposto di quello che pensiamo. Grazie. 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 Grazie.